Allora, buonasera e benvenuti a tutti. La domanda è, è possibile che Tommaso d'Aquino possa mobilitare delle persone all'inizio del weekend? Secondo me sì. Questo libro dice perché. Dice perché non è una questione così un po' peregrina o puramente accademica o di persone, ce ne sono anche fissate con Tommaso d'Aquino. Ne vale la pena perché ci troviamo di fronte ad un autore che un po' tutti hanno orecchiato un po' e le cui tessi fondamentali o meglio dire canonizzate, standard, sono facilmente ripetibili o come dire difendibili o attaccabili. La particolarità e anche l'interesse del libro che questa sera presentiamo, Tommaso d'Aquino, un profilo storico-filosofico di Pasquale Porro, che è ordinario di storia della filosofia medievale all'università di Bari e mio collega Bari e anche mio grandissimo amico, aiuta a capire come ci troviamo di fronte ad un filosofo che vale la pena riascoltare in diretta senza pensare già di conoscere la sua dottrina perché riascoltando in diretta la sua voce e in diretta appunto vuol dire non soltanto leggendo brani dai suoi testi ma capendo come è accaduto il suo pensiero, a chi rispondeva, quali fossero i suoi rapporti con il suo ordine e i domenicani e i rapporti tumultuosi con i secolari o qual era la sua concezione del magister di teologia a Parigi. Insomma capire come è avvenuto concretamente questo pensiero nella sua farsi storico e paradossalmente questo è il modo in qualche modo di togliere il gesso a questo autore il quale ha avuto un destino glorioso ma nella gloria anche un po' penoso nel senso che quanto più si è affermato come un pensiero di riferimento o una bandiera tantomeno è stato appunto ascoltato in presa diretta. Questo libro mi pare ci permetta di riscoprirlo e di riscoprire attraverso questa lettura delle questioni, delle dimensioni che potrebbero stupirci non soltanto rispetto ad alcune consolidate immagini che si hanno di Tommaso d'Aquino ma anche rispetto alla pertinenza e all'interesse delle sue questioni per il nostro fare filosofia e il nostro concepire noi stessi e la realtà. A questo tavolo ci sono altri due importanti studiosi della filosofia medievale alla mia destra il professor Luca Bianchi che è ordinario di medievale presso la facoltà del Piemonte orientale a Vercelli ma milanese doc e alla mia sinistra il professor Onorato Grassi ordinario di medievale presso la Università Lumsa di Roma e quindi ci permetteranno anche di entrare un po' nel laboratorio dei medievisti. In genere i medievisti diciamo sono molto compatti nella discussione e negli incontri scontri all'interno di questa affascinante disciplina ma si tratta di tre medievisti che sono anche molto attenti a aprire sempre il gioco, aprire il dossier dei problemi, a permettere anche a profani di entrare a capire che cosa è in gioco. Allora procederemo in questa maniera faremo due manche. Nella prima manche partendo dal professor Bianchi cercheremo di capire alcune linee fondamentali del pensiero di Tommaso così come emergono da questo nuovo libro, da questo nuovo profilo storico filosofico di Pasquale Porro. In una seconda manche invece restringeremo un po' di più il quadro e i due colleghi medievisti porranno alcune questioni su cui forse a loro parere varrebbe la pena ritornare, dibattere, precisare, chiarificare o smentire, non so. Domande alle quali poi in conclusione l'autore del libro risponderà. Bene, la parola a Luca Bianchi. Grazie. Si sente. Buonasera a tutti. Ma diciamo io con molto piacere dico due parole su Tommaso ma specialmente su questo libro perché l'incontro è sicuramente sul pensiero di Tommaso ma mi perdonerete se in un quarto d'ora o giù di lì non potrò diciamo affrontare anche solo qualche tema di un autore così complesso vorrei però richiamare l'attenzione su un modo in cui si può affrontarlo e il modo secondo me molto originale e molto brillante che è stato scelto dal collega e amico Pasquale Porro. Ora la prima cosa da dire è che questo è un libro un po' diverso da quelli che si leggono frequentemente non solo in ambito strettamente medievistico ma io direi anche più in generale nella storia della filosofia in questi ultimi anni perché è una monografia, una monografia nel senso completo ma non nel senso tradizionale del termine. La generazione dei nostri maestri ecco praticava questo genere letterario ma negli ultimi decenni le tendenze sono spesso diverse si fanno studi per problemi per concetti per corsi trasversali ricostruzione di controversie si fa anche in filosofia in un modo particolare della microstoria ma un autore che si proponga di affrontare un pensatore nella sua interezza e di dargli una presentazione complessiva non si incontra molto facilmente. Questo perché appunto i nostri gusti sono in parte cambiati ma non è solo una questione di gusti è che per fare un libro di questo tipo ci vogliono delle competenze particolari ci vuole una capacità di lavoro assolutamente straordinaria e ci vuole anche una duttilità notevolissima perché la ricerca procede sempre più in direzione della specializzazione e quindi ci sono ottimi studiosi di un aspetto di Tommaso che possono trovarsi maggiormente in difficoltà ad affrontarne altri. Quindi un testo così è un testo che diciamo suscita immediata ammirazione ma anche qualche interrogativo quando uno vede come è impostato e ne percorre l'indice. Si tratta di una scelta molto coriaggiosa e secondo me di un esperimento assolutamente riuscito perché questo testo ci presenta l'opera di Tommaso nella sua completezza e peraltro lo fa in un modo anche qui molto particolare perché non ci presenta l'insieme del pensiero di Tommaso per temi ma ce lo presenta in un modo sostanzialmente genetico ripercorrendo la carriera di Tommaso e ripercorrendo il contenuto delle principali opere così come sono state composte e redatte da Tommaso nell'arco del suo lungo lavoro lungo malgrado la sua vita alla fine parecchio breve insomma è vissuto solo una cinquantina d'anni e se pensiamo quello che ha scritto è semplicemente inimmaginabile. Questo taglio diciamo monografico presentazione globale ma presentazione globale che segue passo passo il lavoro di Tommaso secondo me ha molti vantaggi. Il primo è quello di sommare un approccio filosofico forte è un testo diciamo dove si incontrano le dottrine e le teorie teologiche filosofiche di Tommaso a un taglio strettamente storico. Quindi leggendo questo libro uno ha contemporaneamente un'analisi dottrinale e una diciamo biografia intellettuale di Tommaso. In questo modo poi si evita di finire in quello cui faceva riferimento Costantino Esposito prima cioè si evita di riproporre l'immagine stereotipata di Tommaso. Si evitano le tesi canonizzate di Tommaso e anziché dare un inesistente sistema atomista si mostra la genesi, il procedere concreto di quest'autore, le tensioni, anche i cambiamenti che su alcuni punti diciamo caratterizzano il suo percorso che certo ha una straordinaria coerenza ma su alcune dottrine si fa vedere come Tommaso precisi modifichi, riveda il suo pensiero anche in funzione delle controversie nelle quali viene coinvolto. E quindi questo diciamo è un testo che ci porta molto lontano dalla manualistica atomista di inizio novecento e ci porta molto lontano da lì anche perché in questo modo si toglie Tommaso dal suo isolamento e lo si ricolloca nello spazio e nel tempo, lo si ricolloca nel suo contesto e a volte lo si mette anche a confronto con i suoi contemporanei. Si vede diciamo nella presentazione che Pasquale Porro dà di Tommaso per esempio il costante riferimento a un altro autore che lui ha studiato molto cioè Enrico Di Gann questo grande teologo che spesso reagisce anche criticamente alle teorie di Tommaso e diciamo queste sue prese di posizione a volte vengono introdotte per chiarire alcuni aspetti del pensiero di Tommaso. L'ultimo e secondo me fondamentale vantaggio del taglio che è stato dato al discorso è quello di presentare un Tommaso completo nel senso più completo, scusate il brutto gioco di parole del termine. Cioè questo è un Tommaso che sicuramente ha il centro della sua riflessione di problemi teologici e metafisici ma si trova anche la filosofia naturale, l'etica, la politica di Tommaso e non solo, questo era abbastanza prevedibile, ma il seguire passo passo il lavoro di Tommaso porta a prendere in considerazione non solo i testi diciamo cosiddetti maggiori ovviamente, le grandi summe, alcune questioni disputate fondamentali eccetera, ma anche le opere per così dire e in parte realmente minori. Tutta quella serie di scritti magari composti per commissione, tutti quegli interventi in cui Tommaso risponde alle domande più strane a volte più stravaganti che gli fanno autorità varie, conoscenti, maestri, autorità dell'ordine e in cui Tommaso si occupa non diciamo di alte questioni metafisiche ma della legittimità dell'usura, del comportamento da tenere nei confronti degli ebrei, delle pratiche divinatorie dimostrando una conoscenza spettacolare della magia, della necromanzia del tempo, oppure discute sul fatto che sia opportuno o meno tirare a sorte le cariche e escluse quelle ecclesiastiche dice che in alcune cose si potrebbe anche fare e forse non è un'idea malvagia diciamo. Comunque è un Tommaso molto legato al suo tempo, contestualizzato, che non è più diciamo il portavoce della cosiddetta filosofia perennis, irrigidita e deformata dalla scolastica tomista di inizio novecento ed è un Tommaso invece molto più innovativo, più originale e diciamo più legato al suo tempo e in un rapporto più conflittuale anche con il suo tempo. È un Tommaso che è pienamente figlio del suo tempo, quello che emerge da queste pagine che diciamo sottolineando le grandi tematiche filosofiche che lui affronta non evita però di sottolineare come Tommaso a volte si pronunci su questioni anche molto specifiche e formuli dei giudizi che a noi possono risultare abbastanza sconcertanti o quantomeno problematici, imbarazzanti e che tuttavia fanno parte del Tommaso storico, del Tommaso reale, che si tratti di certe prese di posizione un po' dure ma del tutto comprensibili nel contesto del XIII secolo sulla persecuzione e la repressione dell'eresia, che si tratti del rapporto complesso che emerge in alcune pagine di Tommaso nei confronti del mondo ebraico. Si sottolinea giustamente che Tommaso si pronuncia in modo assolutamente chiaro contro i battesimi forzati, si dice altresì che perché è così Tommaso sostiene la totale legittimità di alcune pratiche che a noi sembrano francamente un po' imbarazzanti, l'imposizione di segni distintivi agli ebrei sugli abiti, la confisca dei beni con alcune limitazioni ma sostanzialmente difende la confisca dei beni delle comunità ebraiche. Al tempo stesso il testo sottolinea come Tommaso vada sottratto, e questo è un fatto storico ormai acclarato ma è importante diciamo sottolinearlo in un testo di questo taglio, Tommaso vada sottratto alla immagine anche qui stereotipata di campione dell'ortodossia, non nel senso che non sia ortodosso, ma il problema è che si tratta di storicizzare la nozione stessa di ortodossia, si tratta di rendersi conto che nel suo tempo, al suo tempo alcune posizioni di Tommaso furono giudicate certo non eterodosse ma comunque abbastanza sospette, tant'è vero che si sottolinea come al di là delle discussioni storiografiche su quali siano i bersagli effettivi della condanna che il vescovo di Parigi dopo, tre anni dopo la morte di Tommaso, nel 1977 promulga, alcune delle tesi prese di mira dal vescovo di Parigi sono effettivamente tesi che Tommaso aveva sostenuto, aveva sostenuto in modo assolutamente coerente rispetto alle sue grandi assunzioni, alle sue grandi dottrine filosofiche ma avevano dato da discutere specialmente in certi ambienti dell'Università di Parigi e specialmente da parte dei rappresentanti dell'ordine francescano. Per venire alle tematiche filosofiche principali a me sembra che un aspetto molto interessante del Tommaso che emerge in queste pagine sia quello legato alla sua concezione da una parte della conoscenza e dall'altra la sua concezione dell'ordine del mondo. Devo dire che leggendo questo testo quello che si apprezza è come spesso vengano corrette alcune idee largamente diffuse che semplificano molto la filosofia di Tommaso. Certe immagini che sembrano quasi automatiche. Tommaso campione del realismo, conoscitivo, si fa vedere come in realtà questa sia un'interpretazione abbastanza parziale e in qualche modo fuorviante. Tommaso come campione della metafisica dell'atto di esistere e anche qui vengono introdotte tutta una serie di importanti precisazioni. Tommaso come grande sostenitore di una metafisica che dà la priorità all'esistenza individuale, mentre si fa vedere come Tommaso dica chiaramente che c'è un primato della specie sull'individuo. O ancora, Tommaso che modifica, reinterpreta, corregge la tradizione della filosofia greco-araba perché ragionando in termini di monoteismo cristiano ha la esigenza fondamentale di difendere la contingenza del mondo. Ora, qui il testo di Pasquale Porro introduce, sempre con molto garbo, a volte anche con qualche spunto ironico, proprio in questo caso in una pagina si parla di sublimi amenità, qui il testo di Porro corregge questa immagine facendo vedere come le cose siano in realtà molto molto più complesse. Facendo vedere, e questo credo sia l'aspetto più, uno degli aspetti più originali della sua interpretazione, quanto Tommaso dipenda profondissimamente dal pensiero di Avicema. Il fatto che il pensiero di Tommaso non sia un restitutelismo puro, è una cosa sia pur, diciamo, riveduto in chiave cristiana, è cosa nota da tempo. L'influenza della tradizione neoplatonica, dello Pseudo di Onigi, del Liber de Causis, anche questa è nota, ma il modo in cui si sottolinea che Tommaso in moltissime dottrine dipende profondamente dal pensiero di Avicema, mi sembra originale, ed è originale in particolare proprio quando si affrontano alcuni dei temi fondamentali della metafisica di Tommaso e nello specifico questo della contingenza della realtà. Perché il testo di cui parliamo oggi fa vedere che Tommaso non è tanto un difensore della contingenza contro il cosiddetto determinismo, un necessitarismo greco-arabo. Sicuramente, diciamo, concepisce la realtà come totalmente dipendente dalla volontà divina, ma non si può fermarsi qui. Bisogna vedere, e il libro lo mostra chiaramente, che Tommaso afferma che l'esistenza di creature eterne e necessarie è assolutamente pensabile. E per lui la loro esistenza non metterebbe minimamente, diciamo, non creerebbe alcun problema perché non verrebbe minimamente messa in questione la cesura fondamentale fra Dio e le sue creature, che passa a un altro livello, quello della composizione ontologica. E in realtà, se si guarda il problema dell'ordine del mondo dal punto di vista della provvidenza divina, Tommaso ha una concezione della realtà in cui ci sono pochissimi margini di indeterminatezza. E quindi il Tommaso che emerge in queste pagine è un Tommaso più, con molte virgolette e senza fraintendimenti, determinista di quanto uno non potrebbe immaginare e di quanto viene detto generalmente. Un'altra cosa, e concludo, che emerge in questo testo è l'importanza della tradizione diciamo di cosiddetta dionisiana, cioè quella della teologia negativa, quella che insiste sull'idea dei limiti e della modestissima capacità umana di parlare di Dio, di applicare a Dio i predicati e i concetti che noi utilizziamo per parlare della realtà. La presenza di questo elemento di teologia negativa nel pensiero medievale è notissimo, che anche questo incidesse su Tommaso, anche questo è noto, ma questo testo mi sembra che sottolinei molto molto chiaramente come in Tommaso l'influenza di questa idea di una teologia negativa si coniughi e quindi sia perfettamente conciliabile con il progetto stesso che Tommaso ha di costruire una teologia scientifica, una teologia razionale. C'è una pagina che vale la pena di citare, chi parla di libri deve sempre dimostrare, di averli letti e quindi non mi sottrarò a quest'obbligo, ma mi sembra molto molto chiara per mostrare anche il tono, il modo in cui molto discretamente questo testo rimette in questione alcune immagini un po' stereotipate di Tommaso. Bisognerà prestare attenzione al fatto che quasi tutti i grandi maestri scolastici optano per la teologia negativa e Tommaso non è certo il minore tra di essi. Senza cedere affatto all'irrazionalismo, l'audacia della scolastica non sta affatto in ciò che è verare improverato durante i dibattiti della riforma e cioè di voler ridurre a sistema compiutamente razionale la fede e ogni nostra conoscenza di Dio. Ma nell'idea che non si debba affatto rinunciare all'esercizio della ragione una volta ammessa l'eccedenza di Dio rispetto alle possibilità cognitive umane e la conseguente superiorità della via negativa su quella positiva. Le grandi summe di Tommaso andrebbero lette in questa prospettiva e se non pretendono di sistematizzare o peggio ancora di riassumere ciò che Dio è ma di riconoscere l'inconoscibilità ultima dell'essenza divina senza che ciò si traduca in una sorta di pigrizia o sacrificio dell'intelletto. Ecco, mi sembra una pagina molto molto bella che meritava di essere sottolineata e qui mi fermo lasciando la parola al collega. Onorato, grazie. Grazie, ringrazio anche io dell'invito e chi parla per secondo dovrebbe farsi dare da chi parla per primo gli appunti così prepara altre cose perché io devo dire che avevo preparato il mio intervento su molte delle questioni che Luca Bianchi aveva, non ultima, quella pagina che lui ha citato ora da cui volevo partire, quindi mi collego molto bene al suo intervento. È opinione comune che Agostino sia più interessante per la mentalità contemporanea di Tommaso. Un'opinione che si è fondata forse sulla dimensione più storica, più anche psicologica di Agostino, ma anche sul modo con cui Agostino può essere incontrato o discusso. Tommaso è giustamente, per alcuni versi poi torneremo credo su questo problema, è stato cristallizzato all'interno non tanto di una, ripropongo un tema su cui discuteremo, scolastica, quanto nell'estrapolazione di concetti o di formule intorno alle quali si sono poi elaborate delle teorie. Non ultimo, Tommaso è stato una delle cause di un'interpretazione storiografica della filosofia medievale, considerata secondo lo schema classico della preparazione dell'apoggio e della decadenza, che molto ha fatto di negativo, a mio sommesso avviso, per l'interpretazione della stessa filosofia medievale. Non parliamo della filosofia del XIV secolo, che ha dovuto essere riscattato da questo schema per poter essere valorizzata in quello che è. Il merito dunque di Pasquale Porro è quello di aprire quantomeno lo scrigno su Tommaso, anche a coloro che è una formula retorica, quella dell'attrarre l'attenzione su un oggetto, e Pasquale lo fa molto bene. Pasquale invita il lettore italiano, ma potrebbe anche dirsi non solo italiano, ad interessarsi di Tommaso. Basta leggere qualche pagine di questo libro e subito si viene come invogliati a continuare. Libro di una ricchezza, già stato detto, notevole, di una precisione, che non deve sfuggire. I buoni libri dicono cose semplici, dicono cose molto difficili in un modo semplice. A volte si ha l'impressione che si possa aver capito tutto, e invece bisogna sempre un po' diffidare di questa impressione. E ripropone, non solo per il revival, ma potrebbe essere che è un tassello molto importante di una ripresa di interesse nei confronti di Tommaso d'Aquino. Considerare il pensiero di Tommaso nel suo stesso farsi, dichiara Pasquale Porro. Questo è l'intento metodologico del testo stesso. Considerare il pensiero nel suo stesso farsi. E' una questione non solo esteriore. Credo che, e sarà un tema in cui nel secondo round vorrei poi ritornare, abbia molto a che fare con il far filosofia. Il pensiero nel suo stesso farsi. Siccome sapevo che il nostro moderatore doveva intervenire, poi interverrà anche lui, butto anche lui una palla. Perché questa indicazione che riguarda la filosofia contemporanea può essere riproposta anche per la filosofia medievale. E' una breve citazione che trago da Abram Eschel, su un bel libro Chi è l'uomo. Egli scrive La difficile situazione in cui si trova gran parte della filosofia contemporanea è dovuta, tra l'altro, al fatto che l'elaborazione dei concetti porta ormai così lontano dalle situazioni reali in cui nasce il filosofare che le conclusioni che se ne traggono paiono prive di rapporto con i problemi d'origine. Questa separare l'elaborazione filosofica dalla situazione, e non stiamo ad entrare nel merito perché Eschel distingue fra problemi e situazione. Il problema è questa cosa di intellettuale. situazione è l'essere storico del pensiero in una determinata condizione storica, ambientale, anche problematica. Ecco, separare l'elaborazione dei concetti dalla situazione, portarli lontani, non fa più neppur capire perché si sono dette certe cose. E non a caso Eschel finisce dicendo che, dopo tutto, la filosofia è stata creata per l'uomo e non l'uomo per la filosofia. Considerare il pensiero di Tommaso nel suo stesso falso credo segua questa indicazione importante non solo del far storia della filosofia ma anche del filosofare stesso. E questo credo sia uno dei meriti importanti di Tommaso. Ma siccome in buona parte Pasquale se la prende con i tomisti devo dire che questo qualche tomista l'aveva detto anche lui. Mi è rimasto, mi è tornato alla mente un famoso libro su cui io mi sono formato che è notissimo, quello di Andrea Yen il quale dice che la realtà oggettiva del tomismo non esiste al di fuori della vita di Tommaso e dello sforzo che io faccio oggi per meglio comprenderla. Quindi qualche tomista c'aveva anche lui questa idea che la realtà oggettiva del tomismo non si può comprendere al di fuori della vita di Tommaso. non solo questo ma anche dello sforzo che noi facciamo oggi per comprendere Tommaso stesso. E quindi è un movimento complesso. Il tomismo non esiste come qualcosa che è dato. Tant'è che Aien più avanti dirà che il tomismo non è un sistema. Non è qualcosa che può essere così definito o risolto in una serie di... Il rapporto dunque del pensiero con la vita lo svolgesi del pensiero è fatto di analisi e di sintesi. E molto opportunamente in questo libro noi troviamo non solo una descrizione evolutiva del pensiero ma un procedere del pensiero nel modo in cui il pensiero procede che è per analisi e sintesi. Qui appunto forse una discussione più approfondita potrebbe anche far rilevare come all'interno dell'analisi storica e anche storiografica emergono delle cattive di fondi interpretative. Ci sono degli snodi che ogni tanto ritornano e queste potrebbero diventare occasione anche per un confronto ed una maggiore riflessione. Certo che intendere così il Tommaso o il tomismo di Pasquale Porro così riproposto ci allontana molto da un sistema un sistema inteso come l'elemento negativo del riproporsi di Tommaso oggi. Ci sono due pagine che non leggo una finale e una che troviamo nel corso del testo in cui questo intento o questa diciamo questa intenzione più che altro è ben espresso da Pasquale. Quando dice che il Tommaso non può essere ridotto a un sistema benché il suo pensiero sia fortemente organizzato perché non possiamo dimenticare questo perché Tommaso ci presenta un sistema che è coerente in cui le parti stanno perché ci sono altre parti perché altrimenti non si riuscirebbe a spiegare. Non è una sedia di cui manca una gamba le gambe ci sono tutte e questa è la grande opera che Tommaso fa nell'incontro quello che il cardinal Erle diceva nel grande incontro fra la cosa poi si può discutere ovviamente tutto questo la cosa più grande che è avvenuta nella religione che è il cristianesimo la cosa più grande che è avvenuta nella filosofia che è l'aristotelismo che è Aristotele ecco Tommaso costruisce questo sistema ed è anche importante vedere come già è stato osservato tutte le dipendenze di questo sistema come esso è stato costruito perché non lo inventa da capo lo riceve e lo ripropone però l'errore che si fa quando si considera questo come un sistema chiuso è quello di non comprendere l'intenzione profonda o il metodo con cui questo lavoro è stato fatto e questo mi sembra che è una domanda che poi vorrò fare o la faccio già adesso così Pasquale mi può rispondere se non sia realmente una lezione da prendere dalla lettura di Tommaso cosa che tu fai molto bene cioè non si può approcciare Tommaso e considerare anche i risultati della sua riflessione senza comprendere il modo con cui questi risultati sono ottenuti cioè quella che è l'applicazione dell'argomentazione razionale ai quesiti agli interrogativi che ci si pongono evitare di fare questo significa fermare sì allora Tommaso in un'epoca che non è più la nostra che ormai che non serve più possiamo parlarne ma significa non comprendere la natura specifica di questo pensiero che è un pensiero che tende di dare una risposta quantomeno o delle soluzioni delle conclusioni a interrogativi che nascono da grandi scontri primo fra tutti quello fra una cultura come quella proveniente dal cristianesimo e una visione scientifica diciamo così della realtà che proveniva da un ambiente diverso dal cristianesimo questa era la grande insomma le grandi correnti che si incontravano e dovevano essere di qui appunto allora la la domanda appunto che sorge intorno a Tommaso relativa alla all'intenzione o al metodo del pensare che è da una parte capace di imparare comprendere apprendere e qui sono bellissime le pagine in cui si parla dell'insegnamento di Tommaso e dell'amore dell'amore per lo studio sembra di cogliere in questo anche una non non taciuta ammirazione dell'autore di questo testo per questo spirito che in fondo anche la citazione della pagina che prima Luca Bianchi faceva tende sempre a conoscere di più c'è l'ultima parte in cui nei commenti agli scritti scientifici Porro fa una giusta osservazione ma perché l'ha fatto quando poteva anche non servirgli più per quello che doveva dire in campo teologico perché l'ha fatto la risposta che lui dà che penso sia condivisibile l'ha fatto per amore di conoscenza perché gli interessava il sapere e allargare il sapere tornerò poi dopo sul tomismo nella seconda round con alcune domande più specifiche ma volevo toccare se ho ancora due minuti posso siccome Costantino mi ha esposito mi aveva chiesto di toccare qualche tema io ne avevo individuati due uno è già stato giusto uno a testa e allora scelgo là perché uno era il realismo e quindi l'abbiamo già un po' risolto vorrei solo dire che sul tema del realismo sono d'accordo con quanto viene detto nel testo forse il termine rappresentazione ecco non perché non sia giusto ma potrebbe essere fuorviante nel lettore eccetera certamente quando il privilegio della specie il privilegio della non conoscenza dell'individuo in Tommaso stanno a dire il limite dell'intelletto umano nella conoscenza ma non l'impossibilità di riferirsi poi alla realtà è il limite umano perché noi non possiamo conoscere le cose nella loro individualità nella loro essenza individuale perché ci arriviamo attraverso dei concetti generali e questo è il limite della conoscenza umana ma potrebbe ancora valere quello che Gilsson diceva che Tommaso parte dalla realtà e ritorna alla realtà quando Gilsson nel tomismo definisce così la filosofia di Tommaso ma l'altro tema che si collega non è l'ordine di cui parlavo prima Bianchi ma è un tema che io mi sono un po' dedicato insomma per quello che ho potuto soprattutto per le lezioni dei corsi universitari quella della razionalità dell'agire umano che mi sembra il tema uno dei temi centrali nella riflessione di Tommaso e che è anche nel dibattito attuale ha avuto una certa attenzione non solo in ambiente filosofico ma anche in ambiente giuridico se vogliamo quant'altro sul problema dell'atto umano dell'agire umano ebbene su questo vorrei dire solo due brevi parole ma è un tema che ha a che fare con questioni diciamo forse non trattate nella loro non sempre qui sarei molto d'accordo con Pasquale non trattate nella loro dirompente novità quali quello della coscienza ad esempio in Tommaso il tema della coscienza intesa come atto che lui prende da Alberto Magno a volte si è ridotto molto a un'argomentazione sillogistica come applicazione di certe di un'argomentazione per trarre delle conclusioni da certi principi in effetti il tema della coscienza è la razionalità del procedimento valutativo e anche del procedimento morale così come quell'idea che è sempre detta e ripresa ampiamente dal fine dell'ordine che Tommaso è profondamente convinto che dicono ovvietà che che vi sia una una razionalità nelle cose dunque uno scopo non è solamente appunto quello che lui riprende dall'etica dell'omne agens agit proterfine ma che vi sia un motivo nell'esistenza dell'uomo o nella natura stessa la razionalità dell'agire umano è un grande problema che si pone in Tommaso ed è forse anche la riflessione che Tommaso fa può essere ecco qualcuno ci sta rivolgendo così come si rivolge un po' a una ripresa dell'aristotelismo e anche a quello di Tommaso e forse la diciamo la dottrina lasciatemi usare questo termine di Tommaso può essere ancora utile per risolvere o quantomeno per impostare alcuni problemi certo con le dovute cautele altra parte io ricordo quando Sofia Vanni Romighi dicevano i studenti che lei aveva incontrato Tommaso perché era partito dalle questioni etiche della contemporaneità ed era giunta a scoprire che lì poteva trovare materiale utile per poter rispondere a queste a queste questioni la razionalità dell'agire umano è l'idea dell'atto umano non degli atti degli uomini ma l'atti volontari degli atti tipicamente umani cioè quegli atti che caratterizzano la relazione o la tendenza verso qualcosa la tendenza verso qualcosa il tendere Robert Speman dice che con un'osservazione acuta a mio avviso dice che questa tendenza naturale va considerata in Tommaso come una ricostruzione della tendenza naturale quindi una tendenza naturale che potrebbe anche non esserci se non fosse ricostruita questo sta a dire che allora l'aspetto morale è un aspetto non meccanico automatico ma che sempre implica la dimensione della volontà e dunque della libertà e qui appunto l'idea su cui non possiamo diffonderci della teleologica del fine e della libertà insieme che sono per Tommaso i fondamenti dell'etica può essere un buon ausilio per il superamento di quella concezione legalistica della morale o dell'etica in cui in fondo siamo tutti un po' visti l'etica del dovere l'etica della legge ebbene sappiamo che appunto per Tommaso la legge non è il fondamento dell'etica per Tommaso la legge è lo strumento e la via anche educativa per raggiungere il fine ecco la razionalità dell'agire umano l'agire umano dunque deve essere giustificato razionalmente e Tommaso lo fa l'analisi che Pasquale propone sia della della Suma ma anche precedentemente poi dei commenti all'etica lo mostra molto ma questa razionalità che ha certamente un fondamento metafisico su cui adesso non interveniamo la teleologia è una teleologia che ha un fine di diritto non un fine di fatto quindi tutto questo viene superato ma sono cose che non vorrete tornare alle solite discussioni di un tempo ma quello che che sembra interessante e ci sono delle pagine che lo mettono bene in luce è che il tema di questa finalità si incarna nella vicenda stessa dell'uomo cioè l'uomo diventa strada per conoscere questo fine Tommaso lo dice molto bene quando dice che noi conosciamo la legge eterna perché conosciamo qualcosa di verità a tutti gli uomini capita di conoscere qualche verità e questo è il segno che si conosce una legge tanto eterna che sta nella razza divina nelle nelle inclinazioni nell'inclinazioni dell'uomo come ben sappiamo ma anche nella debolezza dell'uomo sta la razionalità a me piace citare due passi della della uno della della summa contra gentile se uno della summa teologie dove questo rapporto fra debolezza dell'uomo e finalità sono messe insieme quasi a connettere la il tema della il tema della tendenza verso qualcosa finalità dell'agire che si realizza nella debolezza dell'uomo e tramite la debolezza dell'uomo si realizza l'opera umana l'opera umana che nasce non dalla potenza dell'uomo ma quasi dalla sua debolezza nella contra gentile sappiamo bene che Tommaso dice che l'uomo nasce nudo e per questo è l'unico fra gli animali che cerca di vestirsi dice che l'uomo nasce privo di cibo l'unico è il latte e per questo si procura il cibo nella natura cosa che gli altri animali non fanno l'uomo nasce lento gli altri animali sono veloci e per questo cerca di costruirsi dei veicoli per andare più veloce e ancora dice ma l'uomo soprattutto si serve di tutto ciò che è sensibile per raggiungere la perfezione della conoscenza intellettiva la debolezza dell'uomo allora con questa tensione porta ad un'opera umana tema che viene ripreso anche nella Suma della Teologia dove si dice grande questione che molti interpreti che hanno visto tracce di comunismo in Tommaso si riferivano poi a questo a questo testo ancora dice che l'uomo nasce nudo e per questo cerca di vestirsi ma nasce anche senza proprietà comuni sommium possessio e tomium umla libertas non c'è niente di proprio dell'uomo e allora quando l'uomo costruisce dei beni il famoso lager il campo è di tutti non è di nessuno ma diventa di qualcuno perché possa essere coltivato meglio questo fondare allora della stessa proprietà intorno ad un utilizzo buono delle cose quindi per poter essere e anche i rapporti fra gli uomini tutti sono pari ma si costruiscono delle relazioni organiche fra gli uomini per poter vivere meglio cioè per passare da quella che per Tommaso è la vita alla vita buona all'utilità di tutto ecco tutto questo io credo faccia parte del tentativo di rendere razionale o giustificare quindi giustificare dal punto di vista dei fondamenti ma anche di rendere razionale l'agire dell'uomo rendere razionale l'agire dell'uomo che trova e vi è una bella espressione che ho trovato nel testo anche nella politica nella politica nell'attività politica una delle espressioni più alte di questa di questa sua razionalità attiva e la bella espressione quando commentando riprendendo il commento alla politica di di Tommaso e quell'idea che l'arte imita la natura che dunque anche la politica è una natura Pasquale Porro usa l'espressione nel campo dell'agire la ragione è attiva perché deve portare a compimento ciò che la natura si limita e questa è la bella per così dire a suggerire ecco l'ho voluta citare questa espressione perché la natura che suggerisce ciò che la ragione deve portare a compimento e questa è la non solo la vita morale ma è la vita politica degli uomini che vivono nella comunità politica ma noi sappiamo come dice anche Tommaso nella insomma era anche cristiano quindi bisogna anche dirlo che la comunità politica non è come Aristote l'ultimo orizzonte perché l'uomo non è tutto nella sua totalità circoscritto in questo orizzonte ma questo orizzonte diventa importante proprio per portare a compimento ciò che la natura suggerisce e quindi che cosa suggerisce la natura? Suggerisce il bene il bene da cercare per sé e per tutti gli altri qualcosa che sia appunto come era stato detto secondo un ordine secondo una razionalità scusate grazie bene facciamo un attimo il punto credo che per i nostri ascoltatori sia chiaro che qui si tratta di un approccio interessante in quanto tenta di aprire nuovamente il dossier Tommaso d'Aquino cercando di non incorrere nella comoda e spesso abusata tentazione di renderlo una bandiera della filosofia perennis come diceva Luca Bianchi o di incasellarlo in un sistema tomistico forse non era un tomista San Tommaso come non era un cartesiano cartesio ma andando più a fondo è stato interessante a mio modo di vedere come i nostri interlocutori abbiano già presentato alcuni nervi scoperti diciamo così alcune questioni che torno ad elettrizzare la situazione mi piace ricordare per esempio quando Luca Bianchi diceva di questa strana coesistenza della concezione di un'ultima inconoscibilità di Dio e appunto del prevalere della teologia negativa e al tempo stesso della ostinata volontà di fondare la teologia come una scienza potrebbe sembrare quasi una tensione paradossale ma proprio nella misura in cui la teologia deve essere intesa e praticata con tutta l'apparato tecnico ed epistemologico che questo richiede come una scienza il fiore più interessante di questa scientificità è il riconoscimento di un qualcosa che si dà a pensare come inconoscibile e quindi che la scienza in qualche modo in questo caso porta come suo prodotto più scientifico l'inconoscibilità che quindi non è semplicemente qualcosa di negativo nel senso debole del termine ma una negatività che ha dentro una pienezza e una potenza di significazione aperta appunto allo scienziato della teologia o quando Nori Grassi richiamava il fatto che c'è una ben precisa organicità nel pensiero di Tommaso voluta e perseguita no e come appunto uno che tratti scientificamente il suo oggetto e il suo soggetto ma questo organismo è un organismo vivo cioè è una complessione che è più a che fare con la vita con il vivente che con il sistema e che quindi pone sempre il problema di andare a cercare l'intenzione che la muove e bene nella seconda manche o round come tu suggerivi andiamo un po' più diciamo ad esemplificare alcune questioni quindi io chiederei brevemente ai nostri interlocutori di mostrare in atto attraverso alcune questioni il professor Grassi ha già cominciato a porre delle questioni quella interessantissima della razionalità dell'agire umano ma alcune questioni in cui rinasce il problema in cui non semplicemente Tommaso viene portato come colui che ha dato una soluzione al problema ma come colui che in qualche modo ci costringe a porre nuovamente il problema e in questo a porre il problema anche a Pasquale Porro che abbia poi la possibilità di ritornare sulle questioni che i suoi interlocutori gli vorranno porre Luca Bianchi grazie io mi riallaccerei proprio a quanto tu dicevi cioè mi sembra che davvero in Tommaso e nella presentazione che in questo libro di Tommaso si fa sia davvero decisivo quest'idea che la consapevolezza della assoluta irriducibilità di Dio alla ragione umana non autorizza l'uomo a risparmiarsi quella che Hegel chiamava la fatica del concetto cioè lo sforzo di esercitare la propria ragione e di nel caso specifico di tentare una scienza teologica e quindi di utilizzare la ragione in vari ambiti ma innanzitutto come razionalità teologica questa mi sembra davvero la grandezza di Tommaso e questo è legato al fatto di cui accennava Nori Grassi cioè l'amore della conoscenza e io sono perfettamente d'accordo ma aggiungerei due cose in Tommaso c'è amore per la conoscenza c'è dovere della conoscenza e c'è piacere della conoscenza perché è un dovere perché in quanto esseri umani creati da Dio come esseri razionali gli uomini devono esercitare la loro razionalità pur sapendo che in qualche modo l'oggetto ultimo della loro riflessione è inattingibile ma in quanto esseri umani concepiti da un Tommaso aristotelico la razionalità è anche la forma la funzione più elevata dell'uomo e quindi quella in cui l'uomo si realizza esistenzialmente e quindi quella che dà la felicità umana e Tommaso recupera questi temi ovviamente reinterpretandoli in chiave cristiana e facendo qualche precisazione non proprio di poco conto ai suoi contemporanei filosofi di mestiere cioè dicendo certo nell'esercizio della razionalità si raggiunge la massima felicità possibile su questa terra che resta pur sempre una beatitudine imperfetta perché la beatitudine perfetta è quella del di là e a proposito di questo io ho solo due domande specifiche il piacere e l'amore per la conoscenza quindi giustifica il lavoro in mane che Tommaso ha fatto non solo in ambito teologico ma anche altrove sicuramente sì ma resta che alcuni provvedi sono aperti e siccome io sono proprio uno storico della filosofia ma storico mi muovo su domande molto molto elementari che non sono privi di interesse perché uno come Tommaso passa così tanto tempo a lavorare a scrivere testi di filosofia o meglio testi di interpretazione dell'opera di Aristotele il Tommaso commentatore la cosa già emersa accennava anche onorato Grassi al tema ma certo c'è interesse c'è curiosità intellettuale e c'è in parte l'idea che bisogna approfondire Aristotele per preparare la riflessione teologica però il libro di Pasquale Boro sottolinea che a parte alcune rilevanti eccezioni le maggiori sono il commento al Deanima e quello all'etica di Comachea il grosso dei commenti Aristotele di Stommaso è fatto quando le grandi opere teologiche sono compiute e quando sta già lavorando a ritmi inimmaginabili negli ultimi anni della sua vita e perché commenta questi testi è l'amore per la conoscenza sì era pur sempre allievo di Alberto Magno quindi aveva questa tendenza onnivora e questa capacità di lavoro stupefacente però io mi pongo la domanda su il senso di questo immane lavoro filosofico il senso stretto e addirittura eseggetico che Tommaso fa scrive davvero solo per sé solo per il suo amore per la conoscenza o scrive per qualcuno ha un pubblico ideale intenzionale che legami c'è fra questo lavoro e l'insegnamento pensa per esempio che questo lavoro possa servire all'insegnamento perché è vero che li scrive negli ultimi anni della sua vita ma quando ha finito le grandi opere teologiche ma è anche vero che diciamo anche per gli standard dell'epoca è morto abbastanza presto e se non avesse incontrato un ramo sulla sua strada verso il concilio poteva pensare di avere ancora una lunga carriera negli studi degli ordini dominicani come aveva fatto il suo maestro Alberto che invece è molto longevo allora mi piacerebbe capire come tu interpreti diciamo questa questione che dal punto di vista storico è molto controversa dell'opera diciamo di Tommaso commentatore di Aristote e questo si collega al tema maggiore su cui vorrei farti una domanda cioè che è un tema proprio banale cioè come Tommaso concepisce la filosofia cosa voglio dire tu sottolinei giustamente che Tommaso non si sarebbe mai definito un filosofo e questo dal punto di vista diciamo storico è indiscutibile e sociologicamente non era un filosofo era un maestro di teologia e non avrebbe mai usato per se stesso il termine filosofo pur consapevole di fare un lavoro filosofico ma non avrebbe detto io sono un filosofo tu sottolinei non solo che dal punto di vista sociologico Tommaso non si considera un filosofo ma sottolinei che Tommaso teologo cristiano considera la filosofia come una stagione chiusa tua espressione letterale come una qualcosa di inattuale e io sono d'accordo però la cosa mi pone un problema e il problema è in che modo Tommaso valuta i suoi contemporanei che i filosofi si ritengono perché come sappiamo bene i maestri della facoltà delle arti con cui Tommaso interloquisce sono insegnanti di mestiere di filosofia per la prima volta nella storia della cultura europea e si definiscono filosofi e come li pensa Tommaso i semplici ripetitori di un sapere passato magari utile ma inattuale morto è vero che a volte li accusa di essere così a volte li accusa di recitare che in termini tecnici vuol dire andare lì a esporre pedissequamente e acriticamente il pensiero di Aristotele anche quando può essere pericoloso dal punto di vista della fede cristiana lo dice ma non credo che direbbe per usare un'espressione di Leonardo che questi erano recitatori e trombetti di Aristotele magnifica espressione leonardesca li considerava secondo me qualcosa di più riconosceva loro una dignità speculativa una dignità filosofica alla fine ha passato non poco tempo a combattere e combattere qualcuno Hegel insegna una forma di riconoscimento in qualche modo il confronto è anche espressione di riconoscimento li confuta li discute ma ne fa i suoi interlocutori quindi non è che in qualche modo ammette che la filosofia è in un certo senso una realtà contemporanea magari limitata fallimentare ma contemporanea questa è la domanda su cui mi fermo grazie sì isolo allora delle questioni visto che dobbiamo un attimo sì la prima è forse più generale perché se quella idea che in fondo dalla patristica in poi che niente di ciò che è umano è per chi ha fede estraneo non sia non solamente uno slogan per Tommaso ma sia quello che fa la differenza nell'opera e qui torno a quello che diceva prima Bianchi così mastodontica di uno che non solo si è fermato a questo enunciato ma l'ha messo in pratica la domanda sulla filosofia era una domanda che interessava anche a me tu scrivi che è appunto una stagione chiusa ma anche che la filosofia non configura per Tommaso un'opzione ancora disponibile presente ora come intendere questo perché la filosofia invece ce l'ha sotto mano è la filosofia storicamente configurata come potrebbe anche essere quella disputa fra teologi e filosofi di Scoto nel prologo quando lui considera i filosofi non la filosofia ma i filosofi e i teologi per quelle persone che erano in campo o anche a butto lì faccio forse un po' troppo voglio uscire per il fatto che la filosofia non poteva essere ripresa se non all'interno di quell'idea in fondo della redenzione per cui non poteva più essere ripresa come se non ci fosse stata ecco e questo ecco questo potrebbe essere che farebbe dire che la filosofia non è una stagione chiusa ma è chiusa come stagione di un tempo ma potrebbe riaprirsi come stagione dopo perché se fosse così allora ritorneremmo o a un dualismo oppure ai soliti dibatti degli anni 30 sulla filosofia cretienne che secondo me hanno usciato un po' il tempo la seconda quindi questa è la prima la seconda questione più puntuale ma insomma spero di non suscitare forti dibattiti perché secondo me in un passaggio che tu molto discretamente dici quasi di sfuggita secondo me individui uno degli elementi cardine del diciamo anche di una interpretazione negativa del tomismo della scolastica dove dici che è stato posto una coincidenza troppo frettolosa fra l'ambito generale della moralità e quello della legislazione positiva allora questo tu lo dici in una parentesi ma secondo me questo è un punto chiave dell'interpretazione di Tommaso o meglio del tomismo stesso cioè prendere Tommaso come colui che fonda la legge naturale sulla base della quale quasi per fotocopio bisogna fare poi le leggi politiche le leggi dello Stato mi spiego allora tu sei molto bravo a metterlo fra una parentesi però mi sembra che sia un punto di notevole importanza eh di notevole importanza perché e dico punto due perché secondo me secondo me scusate no perché l'idea di legge naturale in Tommaso stesso che è qualcosa di determinato edifisso in sé ma la conoscenza che noi ne abbiamo è una conoscenza anche questa che non è del tutto assoluta tant'è che noi vi arriviamo per approssimazioni e dunque quando si sente dire che la legge naturale è qualcosa è in fondo un postulato lui lo dice perché il ragionamento non terrebbe come il ragionamento teoretico non terrebbe se non avesse qualche principio a cui doversi riferire così il ragionamento pratico ha bisogno di qualcosa a cui doversi riferire ma che cosa sia questo principio al di là dei principi del bonum es facendum o dei bona che sono relativi alla conservazione o alla conoscenza e al vivere in società che sono principi che poi vengono riconosciuti quando questo deve essere è l'opera della ragione che cerca di descrivere di definire questi principi quindi è sempre un'attività razionale questo fa vedere come poi la traduzione del campo politico non possa non tener conto di questa diciamo imperfezione così come non possa non tener conto delle imperfezioni della contingenza e quindi delle diversità con cui questa debba ora mi sembra che questo punto sia un punto forse più ecco no no giustamente da non mettere a tema perché suscita una serie di questioni l'altra questione che ti volevo chiedere ma è un particolare tu a un certo momento dici che l'etica di Tommaso è un'etica delle virtù anche questo sarebbe sì è vero ma non è solo un'etica delle virtù non si fonda sulla virtù qui torneremmo decisamente ad Aristotele mentre è una il tema delle virtù è fondamentale perché appunto cercavo di dirlo prima magari un po' così ma lo stesso tema della finalità avviene attraverso una conoscenza dell'agire umano quindi la virtù è insita a questo però direi proprio che si fonda sulla finalità che è un'etica teleologica dove la virtù è una componente di questa dimensione l'ultima è una battuta tu in un certo momento dici che Tommaso come ogni buon professore universitario fa coincidere lo studio con l'insegnamento e quindi guadagna tempo perché riesce a scrivere volevo sapere se c'era qualcosa di biografico in questa tua battuta bene autobiografico la parola Pasquale Porro devo innanzitutto ovviamente ringraziare per il primo luogo per l'ospitalità in questa sede nel centro culturale che mi dà l'opposizione di tornare su cose che tra l'altro sono state da me elaborate per un lungo periodo pubblicate per cui alcune delle cose che sono state ricordate adesso diventano per me un'occasione per tornare e ripensarci a distanza quindi veramente grazie per questa ospitalità grazie a Costantino Esposito per aver anche curato per così dire l'organizzazione introdotto grazie ai colleghi amici Luca Bianchi e Nori Grassi per aver detto con molta più intelligenza alcune cose che io espresso in maniera invece molto più impacciata probabilmente nel volume stesso allora molto brevemente io vorrei cercare di rispondere alle questioni che mi sono state poste non prima però di aver ricordato forse un dato essenziale che mi sembra opportuno precisare cioè perché mi sia imbarcato in un'operazione di questo tipo e in maniera ugualmente breve in conclusione forse se ne vale la pena non lo so ma ricordare quello che io fondamentalmente ho appreso facendo questa operazione vorrei partire da una cosa un po' strana assieme a Costantino Esposito che non è soltanto un collega ma è un amico fraterno da lunghissimo tempo noi abbiamo condiviso una stessa maestra per così dire che era la professoressa Lamacchia all'Università di Bari da cui abbiamo appreso molto come metodo e altro la professoressa Lamacchia però ci aveva sempre raccomandato di non fare una cosa cioè di non concentrare mai i nostri studi sui grandi autori ecco in questo noi purtroppo l'abbiamo in qualche modo tradita perché Costantino Esposito ha lavorato su Kant su Heidegger cioè su grandissimi del pensiero occidentale e alla fine dopo aver lavorato su altri maestri scolastici insomma ho deciso di dedicare molti anni della mia vita a Tommaso D'Alcuno perché in realtà la situazione come sempre tutte le cose hanno un'origine puramente contingente in questo caso mi era stato chiesto di fare un'introduzione basilare per al pensiero di Tommaso in una collana diciamo della stessa casa editrice il problema è che per fare un'introduzione di questo tipo io ho cercato ho deciso di leggere tutto Tommaso che mi ha portato via e lo devo confessare diversi anni e alla fine la cosa che mi sono accorto è che su un pensatore come Tommaso in realtà noi non avevamo in Italia ma non solo in Italia delle monografie introduttive di carattere generale da ormai da decenni l'ultima in Italia veramente degna di questo nome probabilmente quella della Bambi Rovighi e anche a livello internazionale c'è una serie di studi sempre più specialistici lo diceva Luca Bianchi all'inizio quello che mancava era un'introduzione d'insieme esisteva un'ottima esiste tuttora un'ottima biografia di Tommaso che è quella del padre Torrell che però tanto è precisa e accurata dal punto di vista storico tanto lascia degli spazi aperti dal punto di vista filosofico perché ogni tanto Torrell è un grandissimo storico della teologia per carità però dà delle tesi filosofiche come appunto pienamente acquisite e così non era allora mi è sembrato valesse la pena dopo aver fatto questa lettura di provare a ricombinare queste due cose l'aspetto storico di Tommaso e quello dottrinale per così dire filosofico per cercare di vedere appunto il pensiero nel suo farsi e l'ultima cosa che vorrei precisare a questo riguardo questo libro è veramente alieno da qualsiasi intenzione polemica anche se qualche volta mi è stata attribuita cioè l'idea di voler liberare a tutti i costi Tommaso dall'immagine del neotomismo del novecento della neoscolastica ecco vorrei dire che io non ho inteso contrastare l'interpretazione volevo semplicemente provare a rileggerla indipendentemente poi ci saranno dei punti che coincidono con la lunga tradizione del tomismo del novecento altri punti che forse si possono leggere diversamente perché sono anche cambiate le coordinate di lettura quindi non c'è un'intenzione polemica per così dire a priori e vengo allora alle domande estremamente intelligenti quindi non so se sarò in grado di rispondere però che mi sono state poste la prima e lo ricordava già Luca Bianchi una questione forse una delle questioni più dibattute intorno a Tommaso ma perché continuare a commentare Aristotele qual è il senso del lavoro dei commenti aristotelici allora per alcune opere e poi dirò se ne ho la possibilità del tempo anche qualcosa su perché giusto Aristotele ma innanzitutto i commenti su alcune opere è indiscutibile che Tommaso abbia scelto di analizzare di schedare meticolosamente le opere aristoteliche in preparazione della parte relativa agli stessi ambiti all'interno delle sue grandi costruzioni teologiche deve scrivere la seconda parte per esempio della Somma Teologica che è una parte dedicata diciamo così alla filosofia pratica e allora Tommaso con molta pazienza si scheda tutta l'etica nicomachea un lavoro di schedatura veramente accuratissimo poi decide di ricommentare tutta l'etica nicomachea per sapere qual è lo status questione scientifico su questo tema per poter impostare dal punto di vista di un teologo cristiano ma sulla base della letteratura scientifica esistente la stessa cosa aveva fatto in precedenza per la parte finale della prima pasta della Somma quando si parla dell'antropologia dell'uomo si legge il Deanima di Aristotele disputa ecco questa è un'altra cosa molto interessante i commenti di Tommaso sono certamente scritti anzi dettati a tavolino nella sua cella ma Tommaso decide sempre poi di disputarlo assieme ai suoi allievi perché ovviamente nell'insegnamento si va più a fondo questo tocca un po' anche l'ultima questione sollevata da noi ci si confronta con i propri collaboratori con i baccellieri gli studenti e si procede in questo ma come diceva Luca tutto questo probabilmente ancora non basta quando Tommaso ha già terminato da tempo la Somma Contra Gentiles sta terminando ma lo sappiamo non lo terminerà la Somma Teologica però ha diciamo ha concluso la parte che poteva essere più speculativa deve adesso affrontare delle parti che sono più strettamente legate alla tradizione teologica cristiana cioè soltanto quella sull'escatologia e sui sacramenti dove potrà accedere in meno alla filosofia avere in meno bisogno della filosofia continua negli ultimi anni della sua vita a cercare di procurarsi testi filosofici e a leggere e commentare testi filosofici non soltanto i grandi testi di Aristotele anche le opere minori di Aristotele il Tommaso a Napoli legge si occupa di meteore di fenomeni atmosferici terremoti cerca di procurarsi testi sulla costruzione degli acquedotti sulla sulle possibilità di applicazione della geometria alle costruzioni e ha un interesse per tutto quello che può essergli messo a disposizione dal greco in latino o dall'arabo in latino Tommaso non è in grado di leggere il greco come sappiamo non è che come si è detto alcuni traduttori lavorassero al suo servizio come Gugliano di Norbeke questo non è vero però certamente Tommaso ha un canale privilegiato è quello che appena qualche testo viene tradotto cerca immediatamente di procurarselo e di commentarlo perché lo fa credo non soltanto per un amore così disinteressato del sapere che certamente c'è non soltanto per un altro motivo su cui insisto molto nel mio volume che è la curiosità intellettuale nel senso migliore del termine cioè colui che si occupa di scienza deve avere una curiosità intellettuale molto ampia lo fa perché a un certo punto Tommaso non parla quasi mai di sé in prima persona proprio quasi scompare nei suoi scritti c'è solo un piccolissimo passaggio celeberto all'inizio della Somma Contra Gentiles in cui Tommaso ricorda di aver messo la sua vita al servizio di Dio e questo significa per lui l'officium sapientis che potremmo tradurre come il compito il dovere del sapiente ho deciso di assumere per me scrive Tommaso per quel po' che mi sarà possibile l'officium sapientis il dovere del sapiente il dovere del sapiente è quello di continuare a coltivare quello che è proprio di tutti gli uomini veniva ricordato prima la razionalità portandolo come dovere non semplicemente come piacere o come qualcosa che ci porterà alla perfezione ma veramente come un dovere anche nei confronti degli altri c'è e questo risponde per quanto mi è possibile anche all'idea di quali fossero i destinatari c'è un'idea in Tommaso che è quella di mettere visto che si è assunto l'ufficium sapientis mettere a disposizione degli altri dei testi propri di teologia ricordiamoci che la Somma Teologica è concepita da Tommaso come un manuale elementare a noi sembra una cosa spesso complicata lunghissima 10.000 articoli cioè considerarlo un manuale elementare ma Tommaso ha deciso di scriverla perché notava che i suoi giovani studenti dominicani in Italia non avevano la stessa preparazione dei francesi e voleva fare qualcosa di più semplice più organico più coerente quindi c'è un'operazione già qui di grande diffusione culturale ma anche per la filosofia è la stessa cosa mettere a disposizione non semplicemente un Aristotele cristianizzato o i neoplatonici cristianizzati intanto rimettere in circolazione alcuni testi perché rientra nell'ufficio sapientis appunto promuovere adesso vorrei usare questo un termine ma siamo in un centro culturale penso si possa dire un'operazione di grandissima divulgazione culturale chiudo questa prima diciamo così forse risposta grandemente insoddisfacente ricordandoci di una cosa quando Tommaso era ancora all'inizio della sua carriera universitaria assieme ad Alberto Magno e ad altri tre maestri dominicani partecipa a una commissione fa parte di una commissione che deve rinnovare il corso degli studi all'interno dell'ordine domenicano qui gli studi di Luca Bianchi su questa sono veramente fondamentali quindi ho attinto diciamo così a piene mani ma la cosa più interessante è questa da questo momento siamo intorno al 1259 il capitolo di Balansien la filosofia diventa uno degli elementi degli assi portanti della formazione di qualsiasi buon domenicano venivamo prima da un periodo di proibizioni e se non di proibizioni realmente efficaci almeno di sospetto adesso siamo nell'idea che forse tutto sommato adesso estremizzo un po' delle cose ma è per capirci e semplifico se in un convento domenicano non c'è un lector di filosofia quasi quasi convivrebbe chiuderlo e accorparlo a un altro convento in cui c'è un lector di filosofia in cui si pensa che la formazione del domenicano debba essere continua che anche i frati più anziani debbano sempre in qualche modo continuare a studiare filosofia perché fa parte del bagaglio per così dire del dominicano nel caso specifico perché è l'ordine in cui appartiene Tommaso ma potremmo dire del teologo o del cristiano in generale non ignorare tutto quello che rientrerebbe appunto nell'ambito del compito o dell'ufficio del sapiente quello che il sapiente deve fare di più rispetto agli altri e mettere questo sapere al servizio degli altri ed è quello che Tommaso in qualche modo ha cercato fino alla fine di incarnare come concepisce allora Tommaso la filosofia io chiedo scusa se tutte le mie risposte saranno inevitabilmente parziali e poco soddisfacenti e anche questa è una bellissima domanda che si interseca anche con una posta da noi e quindi cerco di rispondere da professor Grassi cerco di rispondere in maniera congiunta e vevo questo è stato anche un punto che probabilmente ha suscitato tra i primi lettori del libro qualche perplessità cioè il fatto di dire che Tommaso sembra considerare la filosofia una stagione chiusa però ho cercato di scrivere chiusa ma non morta un'opzione secondo lui non più concretamente disponibile nel senso che nessuno potrebbe definirsi secondo Tommaso la sua epoca ancora puramente filosofo e questo avrebbe significato per Tommaso negare in qualche modo l'appartenenza invece alla tradizione cristiana ma non per questo qualcosa che non sia utile o con cui non ci si debba confrontare perché anzi lo dicevamo in precedenza tutta poi l'esperienza biografica di Tommaso dimostra la necessità di questo confronto quindi questa strana caratterizzazione della filosofia mi sembra possa essere suggerita da un fatto che non credo sia stato spesso rilevato controllando le varie occorrenze del termine filosofia filosofus filosofi in Tommaso è un esercizio che potete fare facilmente anche voi noterete che Tommaso usa quasi sempre i verbi al passato i filosofi hanno detto la filosofia apposto opponeva l'uso del passato non è un uso secondo me puramente così dire retorico altro indica che per lui veramente è esistita una stagione fondamentale del pensiero che era la filosofia questa stagione si è conclusa per così dire con l'avvento del cristianessimo non perché il cristianessimo neghi la filosofia ma perché ha mostrato ed è quello che cercherò di dire questa è la tesi di Tommaso che il fine che i filosofi avevano individuato ma che non erano mai stati in grado di raggiungere è diventato realizzabile e ottenibile soltanto attraverso la rivelazione cristiana quindi i filosofi hanno capito qual è il fine ultimo dell'uomo e adesso ci arriveremo ma sono caduti in una profonda depressione c'è un passo bellissimo della Suma Contra Gentiles quasi una disperazione perché si sono resi conto essi stessi di non poter riuscire a raggiungere questo fine il fine è stato precisato molto meglio dal cristianesimo e soprattutto il cristianesimo ha fornito infine i mezzi per raggiungere dunque bisognerà inevitabilmente fare i conti con la filosofia a partire da essa ma ci sarà un raggiungimento che non appartiene più all'ordine della filosofia in quanto tale questo significa per tornare alla domanda di Luca che i maestri della facoltà delle arti coloro che si definiscono di professione filosofi in qualche modo sono fuori tempo sono ormai demodè o altro allora anche qui si è scritto molto vorrei semplicemente rovesciare un po' però anche qui la questione come consideravano gli artiste cioè i maestri della facoltà delle arti filosofi di Tommaso come un avversario o come una persona con cui dialogare o entrare in contatto e qui se andiamo a vedere i documenti sono abbastanza sorprendenti quando Tommaso muore chi veramente piange la sua perdita sono i maestri della facoltà delle arti scrivono una lettera ai domenicani chiedendo chiedevano in fasi successive una lettera è stata inviata già prima addirittura della morte di Tommaso prima è che Tommaso mandasse anzi che adesso i domenicani mandassero alla facoltà delle arti quindi alla facoltà di filosofia di Parigi i suoi scritti e i testi greci che si sapeva se Tommaso si fosse preoccupato negli ultimi mesi della sua vita e poi chiedevano il corpo di Tommaso ora chiedere il corpo di Tommaso che è un teologo un maestro di teologia domenicano e lo chiedono i maestri della facoltà delle arti significa che i maestri l'hanno in qualche modo sentito come uno di loro non semplicemente come un avversario ma come uno di loro e la pratica stessa dei commenti ad Aristotele verso la fine del XIII secolo inizio del XIV mostra che tutti i commentatori o quasi tutti i commentatori della facoltà delle arti in realtà hanno come modello di commento ad Aristotele proprio Tommaso invertendo questo rapporto io credo che Tommaso abbia avuto abbia naturalmente contrastato per certi aspetti però credo che questo per esempio sia una delle cose su cui si è avuto una enfasi molto marcata nel neotomismo novecentesco che le distanze siano talvolta un po' più sfumate di quello che si siano volute evidenziare quello che Tommaso non avrebbe mai accettato ma già lo diceva Luca Bianchi in precedenza e l'idea è che ci si possa limitare a esporre neutralmente Aristotele come se non esistesse più la rivelazione cristiana l'idea di Tommaso invece è che bisogna commentare Aristotele commentare Neoplatone o ciò altro tenendo conto che c'è la rivelazione cristiana e persino i determinati intellektus o i determinati mundi sono gli opus che in realtà partono sempre dall'idea io voglio prima di tutto dimostrare che Aristotele abbia detto questo poi in realtà possiamo anche dire che l'Aristote di Tommaso è molto spesso un Aristotele interpretato un po' anche per i suoi fini persino alcuni maestri diciamo così considerati meno aristotelici sono più fedeli filologicamente ad Aristotele però è interessante ecco l'atteggiamento che è quello di incorporare avere questo riferimento verso la tradizione filosofica che è una tradizione che rimane vitale per Tommaso solo se viene ricollocata all'interno della tradizione cristiana se invece vuole rimanere un orizzonte a sé per Tommaso diventa poco utile se non per discutere con coloro che non riconoscono più la rivelazione cristiana perché questa fusione tocca un altro elemento ma anche questo è stato detto già molto meglio di me in precedenza perché il vero punto di contatto di saldatura tra l'orizzonte della filosofia e il cristianesimo è l'identificazione dell'uomo come animale razionale quindi come un vivente che è dotato di razionalità questa è la definizione che viene attribuita da Aristote in senso stretto pura aristotelica la definizione che Tommaso prende veramente sul serio allora i filosofi hanno capito che si è uomini e questo lo ripetevano in maniera ancora più enfatica proprio i maestri della facoltà delle arti contemporanei di Tommaso quando si esercita la razionalità se non si esercita la razionalità si rischia di rimanere più viventi più animali e quindi uno direbbe più bestie come dirà addirittura Dante che uomini in senso stretto benissimo su questo Tommaso è perfettamente d'accordo il problema è perché esercitiamo la razionalità e torniamo a quello che diceva Neri Grassi non semplicemente in maniera del tutto come pur esercizio di curiosità ma perché teniamo a fine a conoscere e che cosa vogliamo conoscere perché vogliamo conoscere qui Tommaso ha una soluzione secondo me geniale perché la conoscenza è un rimedio all'imperfezione dell'universo nell'universo inevitabilmente ci sono gradi diversi di perfezione tutte le cose sono limitate ma conoscere è un modo per far sì che le perfezioni di tutte le cose possano essere recuperate restaurate attraverso il processo conoscitivo il nostro fine è conoscere tutto l'hanno detto i filosofi dice Tommaso lo dice a vicenda in cui dice qual è lo scopo di noi uomini in quanto uomini diventare un mondo intelligibile e questa definizione per Tommaso è perfetta lo scopo dell'uomo è diventare un mondo intelligibile allora la domanda di Tommaso è qualcuno dei filosofi ci è riuscito c'è una lunga disamine nella contra gentiles per vedere tutti i tentativi che sono stati fatti la conclusione è quella di dire nessuno dei filosofi è mai riuscito ad avere veramente la piena felicità speculativa di cui parla il filosofo per eccellenza Aristotele perché perché per noi conoscere tutto secondo Tommaso è conoscere Dio Tommaso lo dice attraverso un'espressione bellissima di Gregorio Magno che collega appunto a questo desiderio di conoscenza universale con il desiderio specifico di Dio collega la conoscenza universale con il fine del cristiano che è la visione beatifica di Dio cos'è che non vedono coloro che vedono chi vede tutto questa è la espressione di Gregorio Magno che Tommaso fa come cioè cos'è che non conoscono coloro che guardano Dio che a sua volta conosce tutte le cose quindi il fine la beatitudine specifica del cristiano la visione beatifica diventa per Tommaso il completamento il perfezionamento di quello che per i filosofi era impossibile di quello che i filosofi avevano cercato ma non erano riusciti in qualche modo a raggiungere e questo forse non so dentro quali limiti riprende un po' anche il primo interrogativo di noi e allora molto velocemente per quanto mi è possibile cerco di rispondere alle ultimissime alle altre domande che aveva sollevato il professor Grassi sì è vero quello che detto in parentesi questa non perfetta identità tra legislazione positiva e quelle che sono norme di comportamento va anche detto che io di solito tendo e esprimi i giudizi attraverso le parentesi ma questo è perché deve essere documentato poi è vero è una cosa che colpisce molto perché colpisce non solo l'origine positiva del diritto umano colpisce anche il fatto che persino in Dio sia stato necessario avere una legislazione positiva che è la rivelazione in aggiunta a quella che è la legge eterna di Dio Dio fosse se la legge eterna fosse stata accessibile a tutti non sarebbe stato necessario mettere fare la rivelazione tutti ci sarebbero arrivati da soli invece per Tommaso questo indica il fatto di una non perfetta coincidenza non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista divino ma ha fatto benissimo non altro grazie a ricordare come il vero asse dell'etica tommasiana sia in realtà anche qui la razionalità se c'è una persona che ha una fiducia estrema nella razionalità umana è veramente Tommaso D'Aquino anche nel campo pratico quello che conta è che la legge è tale solo perché incarna di fatto quelle che sono le esigenze dell'agire razionale dell'uomo tutto il disegno della legge è basato sulla razionalità la legge è una norma razionale a cui bisogna in qualche modo attenersi questo nei comportamenti intersoggettivi nella politica ed è anche il criterio fondamentale dell'etica stessa di Tommaso per cui è vero l'etica di Tommaso è solo parzialmente un'etica della virtù nel senso aristotelico per Aristotele il comportamento etico è forgiare se stessi attraverso le virtù formarsi un carattere questo c'è lungamente in Tommaso perché voglio ricordare che proprio la parte quantitativamente più ampia della summa teologica di Tommaso è una lunghissima discussione delle virtù specifica virtù per virtù ma soprattutto anche qui secondo me il nesso tra Aristotele e Tommaso è l'idea della razionalità dell'agire l'etica di Aristotele non è una costruzione del carattere fine a se stesso è il costruirsi come animali razionali di nuovo ed è la stessa cosa che fa Tommaso ma con la precisazione fatta in precedenza anche qui c'è ovviamente un riferimento teleologico su questo ha perfettamente ragione non nato grassi solo che il cristiano ha qualcosa in più secondo Tommaso naturalmente che lo rende permettetemi il gioco di parole più felice rispetto ai filosofi e il fatto che i filosofi pongono il fine ma non sanno di poterlo raggiungere secondo Tommaso non l'hanno raggiunto e non lo raggiungeranno e Tommaso dice probabilmente anche l'etica si colloca invece in questo ordinamento prospettico della beatitudine naturale della felicità naturale alla felicità soprannaturale ma sulla cosa biografica non so cosa dire anch'io credo che in realtà insegnare sia forse uno dei modi migliori per studiare si capiscono ma credo che questa sia un'esperienza che ciascuno di noi abbia fatto tutti coloro che di voi voglio usare questo termine hanno la fortuna di insegnare perché è vero che purtroppo adesso la figura dell'insegnante è largamente depreciata e svalutata nella società italiana ma insisto per tutti quelli che hanno avuto la fortuna o hanno la fortuna di insegnare avranno fatto l'esperienza che moltissime cose si riescono a comprendere molto più quando si cerca di renderle chiare agli altri inevitabilmente si fanno più chiare a se stessi e quindi le due cose sono indissociabili non so se ho risposto ai quesiti che mi sono stati fatti aggiungo soltanto come avevo premesso e prendo soltanto altri due minuti se ce li ho perché mi è stato chiesto anche indipendentemente ma allora che cosa ci sarebbe che cosa ecco io se dovessi sintetizzare in tre quattro tesi quello che questo confronto anche per me molto faticoso con Tommaso in questi anni mi ha insegnato e oppure dovessi definire veramente che cosa è specifico di Tommaso indipendentemente dal neotomismo del novecento dalla neoscolastica del novecento beh io proverei a dire queste tre quattro cose in primo luogo questa insistenza fondamentale anzi prima cosa la grandissima insistenza sull'unità del composto umano Tommaso è veramente uno dei pensatori più antidualisti della storia occidentale per Tommaso l'uomo è sempre indissolubilmente anima e corpo sempre perché siamo appunto animali razionali e questo è stato anche il tratto che ha sempre identificato i primi tomisti quando Tommaso dopo la morte viene condannato a Oxford viene condannato per questa tesi per difendere radicalmente il fatto che l'anima razionale sia l'unica forma del composto umano quindi che l'uomo sia immediatamente corpo e razionalità indissolubilmente corpo e razionalità e coloro che all'inizio si definiscono tomisti non lo fanno per astratti motivi metafisici ma per la fedeltà a questa tesi di fondo che l'uomo sia assolutamente un'unità questo ha delle conseguenze su cui talvolta noi non pensiamo una delle più la cito perché è paradossale è questa ecco per Tommaso per esempio non è specifico della fede cristiana l'immortalità dell'anima non è questo il tema fondamentale questo sarebbe un tema platonico platonizzante per Tommaso lo specifico della fede cristiana è la restruzione del corpo il ricongiungimento col corpo è questo che bisogna spiegare e Tommaso ha una tesi molto forte in proposito cioè che nello stato dell'anima separata quando l'anima quando noi siamo morti a livello individuale ma attendiamo ancora il ricongiungimento dei corpi dopo il giudizio finale l'anima che già vede Dio non è ancora al culmine della felicità si potrebbe dire ma già ha il suo oggetto già ha il suo fine già vede Dio quindi perché non è ancora al culmine della felicità lo sarà soltanto quando avrà recuperato col giudizio finale il proprio corpo non perché cambi l'oggetto della visione beatifica che è Dio ma perché lo rifà in quanto uomo in quanto uomo completo perché avrà recuperato la sua integrità quindi primo elemento secondo me fondamentale è questa difesa straordinaria dell'unità del composto umano secondo elemento che è stato già ricordato da Luca Bianchi questa idea che non sia necessario insistere su una divisione tra Dio e il mondo basato sui termini solo Dio è stabile è necessario ontologicamente forte il mondo è precario e contingente ecco si potrebbero spendere molte parole lo sintetizzo già ricordava Luca in precedenza per Tommaso esistono di fatto creature formalmente necessarie come Dio perché l'idea di fondo di Tommaso è questa che il cosmo sia stato creato da Dio solido forte non è un cosmo precario che ha bisogno costantemente di aggiustamenti alto la creazione è già stato un forte elemento per così dire di positività la distinzione sta in un altro cioè che le perfezioni delle creature sono per così dire molteplici e complesse la perfezione riassuntiva di tutto è semplicissima nel cosmo di Tommaso proprio e questo si collega alla tesi precedente la vera cesura non è tra il sensibile e l'intelligibile tra il materiale e l'intelligibile che è la cesura di tutti i platonismi ma è il fatto che tutto quello che è creato è formalmente definito è determinato è pensabile attraverso una forma soltanto Dio eccede le forme quindi non è un problema di contingenza o altro al limite si potrebbe dire che quello che separa le creature da Dio è un'eccedenza più che un difetto le creature hanno troppe perfezioni slegate tra di loro Dio è una perfezione semplice quindi ripeto è un po' uno slogan ma sarebbe più questa idea fondamentale di insistere sulla solidità terza tesi l'insistenza sulla conoscenza sulla razionalità l'abbiamo già detto non ci ritorno però ricordo un altro dei motivi per cui Tommaso è stato fortemente criticato dai suoi amici teologi o colleghi di teologia quando è morto specie dai francescani una delle tesi di Tommaso lo so che potrà sembrare strana a qualcuno è che noi non siamo fatti per amare Dio siamo fatti per conoscere Dio questo perché non perché l'amore non esista ma l'amore per Tommaso è una conseguenza della conoscenza solo quando avremo una conoscenza perfetta di Dio perché questo è il nostro fine allora potremmo aver realizzato quello che è il nostro fine lì come implicazione affettiva ci sarà anche l'amore di Dio su questo tema per esempio è fondamentale cogliere che la differenza tra Tommaso e Eckhart all'interno dell'ordine dominicano è molto minore di quella che sia stata normalmente detta e l'ultimo aspetto che vorrei veramente identificare si ricollega a questo elemento conoscere è fondamentale siamo fatti per conoscere ma questa conoscenza si radica abbiamo detto in una natura che è già salda solida molto positiva e allora come si innesta il soprannaturale visto che c'è un fine soprannaturale che si innesta la sua alta beh io vorrei prendere un aspetto veramente molto poco indagato di Tommaso che è una questione di demonologia di Tommaso allora diciamo subito i maestri scolastici non sono molto interessati al diabolico i demoni anzi diciamo in una maniera cristiana i demoni non sono all'interno della teologia scolastica non hanno quella presenza che noi di solito attribuiamo all'immaginario medievale c'è qualche questione ma il vero scandalo per esempio per Tommaso è questo non è la natura del male in quanto tale ma come ha potuto una creatura intellettualmente perfetta la creatura razionale più perfetta l'angelo peccare perché e Tommaso in questo è un aristotelico l'angelo conosce perfettamente il bene supremo Dio ha un intelletto puro quindi non può sbagliare non c'è niente che possa turbare la sua volontà come è entrato il peccato il disordine nel mondo perché l'angelo che era perfetto aveva una conoscenza perfetta già l'aveva ha potuto sbagliare c'è una delle teorie tradizionali elaborate in proposito una quella agostiniana è che il peccato di Lucifero sarebbe stato un peccato di superbia il diavolo voleva farsi simile a Dio e Tommaso dice impossibile sarebbe stato un ignorante sapere perfettamente la creatura più perfetta che era impossibile diventare simile a Dio non solo essendo uno scienziato l'angelo sapere perfettamente che diventare uguale a Dio sarebbe stato avrebbe comportato la soppressione della propria specie e nessuno vuole la soppressione della propria specie quindi escludiamo che l'angelo volesse farsi simile a Dio non è questa la superbia non desiderava Dio sbagliato dice Tommaso sicuramente l'angelo supremo desiderava Dio è stato fatto come una creatura intellettuale perfetta il bene perfetto e altro quindi sapeva qual è il suo bene qual è il suo errore aver voluto amare Dio e desiderare Dio soltanto a partire dai suoi mezzi naturali senza considerare il ruolo di Dio in ciò che è soprannaturale cioè un peccato di autosufficienza che è lo stesso peccato per questo ci insisto e concludo che Tommaso impoverà ai filosofantes ai filosofi non è l'identificazione del fine che è sbagliata non è l'identificazione del bene che è sbagliata ma è del modo di arrivarci siccome Tommaso scrive molto meglio di me sicuramente più chiaro di me faccio un'unica e ultima citazione con cui concludo dunque scrive Tommaso il primo peccato del diavolo consistette nel fatto che per conseguire la beatitudine soprannaturale il diavolo voleva essere felice come tutti quanti l'angelo consistente nella piena visione di Dio il diavolo vuole vedere Dio non vuole sostituirsi a Dio non si innalzò verso Dio insieme con gli angeli santi come uno che desidera la perfezione finale attraverso la sua grazia ma volle conseguirla con la potenza della propria natura e tuttavia non senza Dio persino nel desiderio naturale del diavolo c'è sempre la presenza di Dio ma di Dio in quanto agisce nella natura quindi non senza Dio che opera nella natura ma e qui è l'errore senza Dio che conferisce la grazia il diavolo non peccò desiderando un determinato male ma desiderando un determinato bene nell'universo di Tommaso persino il peccato è dato da un desiderio del bene cioè la beatitudine finale persino il diavolo vuole la beatitudine finale non secondo l'ordine dovuto non secondo la razionalità cioè da conseguire per mezzo della grazia di Dio questa è anche la saldatura di Tommaso tra la natura e la grazia la natura non ha niente di sbagliato in sé secondo Tommaso è solida è quasi perfetta in sé eppure il suo compimento richiede qualcosa qui appunto c'è la differenza la linea di demarcazione tra l'orizzonte della filosofia e quella del cristianesimo che la natura stessa non contiene o per dire eccede la natura grazie sarebbe secondo me molto interessante aprire il dibattito ma non possiamo farlo per questione di tempo permettetemi soltanto di ringraziando tutti i partecipanti a questo tavolo di discussione di dire quello che mi sembra tra i mille spunti una questione veramente interessante una sorta di riapertura paradossale del pensiero di Tommaso partendo da quest'ultima questione sollevata da entrambi i discussant cioè com'è che prende così sul serio la filosofia per un suo gusto particolare certamente per un suo dovere professionale certamente ma permettetemi di dire che emerge secondo me il fatto che Tommaso è uno che prende sul serio la filosofia proprio in quanto e nella misura in cui ne ha chiaro il desiderio di compimento e quindi tutta la annosa questione da cui giustissimamente secondo me Pasquale Porro si tiene un po' a distanza sul rapporto sulla dialettica tra fede e ragione in cui a volte si cristallizzano delle questioni come poter conciliare due cose che in qualche modo nascono già separate nel farsi termine molto ricorrente oggi nel farsi vissuto di questo pensiero invece in qualche modo è come semplificato all'origine perché in qualche modo proprio il dono della grazia l'apertura o l'esercizio della fede permette di non chiudere il premio della filosofia ma addirittura di coltivarli perché dall'interno della filosofia si capta quel desiderio di felicità cioè di conoscenza dell'intero del tutto che rende più infelici i filosofi puramente naturali primo paradosso verissimamente secondo paradosso anche questo più volte ricordato l'oggetto della teologia è ultimamente inattingibile alla nostra conoscenza la scientificità della filosofia è tanto più realizzata quanto più riconosce l'irriducibilità della sua conoscenza ma ritenere che Dio sia inconoscibile non è appunto soltanto l'attestazione evidente di una impossibilità della conoscenza o di una inevitabile inafferrabilità dell'oggetto ma è appunto ancora una volta spiegabile come desiderio positivo di compimento e quindi non è semplice quella negatività in qualche modo è il sigillo ancora maggiore della razionalità del procedere del teologo infine ultima mi sembra dimensione paradossale questo libro un profilo storico filosofico di Tommaso d'Aquino riporta diciamo in maniera scrupolosa e ineccepibile Tommaso alla sua epoca ma in qualche modo come si è visto stasera proprio riportando Tommaso alla sua epoca ci fa capire il problema che lui pone è il problema della nostra epoca vi ringrazio molto grazie a Pasquale per aver scritto questo libro e a voi per aver avuto la pazienza di ascoltarci grazie a tutti grazie a tutti